Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Inizia con una sconfitta l'esperienza di Paolo Zanetti con l'Empoli in Serie A Esordio Amaro contro lo Spezia, i tre punti vanni ai Liguri, grazie al gol di Mbalanzola che ha fissato il risultato sa all'1-0 Punto non nasconde la delusione l'allenatore dell'Empoli nell'intervista post partita ai microfoni di Dazon, è normale in questo momento non avere la sincronia che ricerchiamo Oggi abbiamo perso una partita che ai punti avremmo meritato almeno di pareggiare Non solo lati negativi, però, Zanetti cerca di vedere anche il bicchiere mezzo pieno Non vado via arrabbiato da questa partita, che è margine di miglioramento Empoli, le parole di Zanetti Dobbiamo alzare un po' la concretezza, è fuori dubbio ha analizzato l'allenatore dell'Empoli Abbiamo preso qualche ripartenza, coperto il campo in maniera sbagliata, subito qualche situazione evitabile Fa parte di un processo di lavoro che dobbiamo fare, ha spiegato, soprattutto davanti Le partite si perdono in tanti modi, abbiamo perso giocando a calcio e creando tante occasioni ha concluso Zanetti Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video